Inaugurato nel 1999, Eurocongressi Hotel vi dà il benvenuto in un luogo dove modernità e passione si incontrano. A vostra disposizione due garage coperti per parcheggiare in sicurezza e comodità autovetture e pullman. Lo staff disponibile 24 ore su 24 vi accoglie con cordialità e professionalità. Al vostro arrivo vi attende un aperitivo all'Eurobar o un buon tè alla caffetteria. L'area conferenze dell'Eurocongressi Hotel è una delle più moderne nel suo genere. Per riunioni, conferenze e seminari, l'hotel offre diverse sale, concepite in base agli standard più moderni, in cui le tecnologie multimediali sono state sobriamente integrate nell'architettura. Il ristorante L'Elogge propone ricche colazioni a buffet e piatti dai sapori locali ed internazionali. Dall'ampia sala potrete ammirare il pittoresco panorama di Cavaillon Veronese. Petrate panoramiche, travi a vista, atmosfera suggestiva nel salone panoramico, ideale per cene di gala e convention di ogni genere. Nelle 50 camere insonorizzate troverete tutti i comfort di un hotel di quattro stelle, con il calore del legno e la freschezza delle ampie vetrate sui vigneti del Bardolino. Non rinunciate al piacere di una doccia idromassaggio. Le sei business room diventano uffici per utilizzo giornaliero o piccole sale riunioni da cinque posti. Proprio davanti all'hotel è situato il parco acquatico Riovalli, ideale per adulti e bambini. Provate l'emozione di scendere gli scivoli e di tuffarvi nelle piscine, oppure assaporate il relax che vi offre il verde parco. Grazie. 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 Grazie.